Stefano Patonelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, già Ministro dell'Agricoltura e precedentemente dello sviluppo economico. Ben trovato. Buonasera, grazie per l'invito. Buonasera a lei. Allora, Patonelli, vengo subito da lei, che fra l'altro dossier aveva ovviamente toccato con mano durante il suo periodo anche al... Non c'è Ministro, non solo dello sviluppo economico, che non abbia toccato quel dossier perché è un dossier che era sui tavoli di tutti i ministri italiani, forse Agricoltura si salvava da molti anni. Le chiedo però se questa soluzione che è stata trovata, il fatto che non ci arrivino risposte dall'Unione Europea, loro rispondono, non ce l'avete ancora chiesto, ma c'è tutto un pre-dossier ed è tutto normale che magari qualche segnale ci arrivasse prima. Cosa sta succedendo secondo lei? Io credo che la fase di interlocuzione con l'Europa sia una fase classica, c'è la fase della pre-notifica e di tutta l'interlocuzione tra i gabinetti dei rispettivi ministeri, della commissione che cercano di determinare e di far sì che non si arrivi a una condizione di diniego all'operazione o di rimedi per i termini di concorrenza eccessivi rispetto all'aggregazione delle due compagnie. Quindi non mi stupisce né l'atteggiamento del governo in questo senso né l'atteggiamento della commissione. Il lobbismo delle controparti c'è sempre stato, quando in altre fasi si dialogava con Air France il lobbismo al contrario lo faceva Lufthansa, quindi penso che sia assolutamente normale questa fase. La soluzione del governo mi lascia perplesso non nel cambio di strategia di alleanza, perché ricordo che non è soltanto l'ingresso nel capitale di Itta da parte di Lufthansa, il tema è anche il passare da Sky a, non la vostra rete, ma l'alleanza, come alleanza atlantica Star Alliance, quindi è un cambio radicale di strategia commerciale di Itta e questo oggettivamente non è negativo. La parte secondo me negativa è l'idea, sottesa agli accordi con Lufthansa, di una sostanziale cessione del 90% delle quote a tendere e della governance e ovviamente di tutte le strategie della nostra compagnia di bandiera. Abbiamo visto quest'estate quanto sia importante avere un vettore in qualche modo controllato che consenta di verificare prezzi rotte e quant'altro in periodi in cui magari il mercato non si autoregola da solo nel modo più conveniente per il consumatore. Quindi penso che la strategia di cedere totalmente la compagnia di bandiera al mercato e ai privati non sia quella giusta. Io sarei rimasto con la maggioranza dello Stato dentro la compagnia, con una forte ovviamente componente di amministrazione e di scelte commerciali in mano a Lufthansa, ma non con la totale proprietà in mano ai tedeschi. Tonelli, cosa ne pensi? Poi dopo cambiamo argomento. Non mi è chiaro il motivo per cui il commissario debba essere per forza in linea con le maggioranze dei governi degli stati che compongono l'Unione Europea perché ci sono governi di tante parti politiche in Europa. Non tutte sono di centro-destra, non tutte sono di centro-sinistra, quindi credo che i commissari abbiano una provenienza politica che dipende da come si forma il Parlamento Europeo e dal voto che ricevono in Parlamento Europeo, non negli stati membri. Detto questo io credo, non me ne voglia il sottosegretario, mi sembra abbastanza evidente la strategia di questo governo che non sta facendo nulla di quello che aveva promesso in campagna elettorale e cerca sempre un responsabile terzo cui addossare la colpa. È colpa del super bonus se non ci sono soldi, è colpa dell'Europa se ci sono i migranti, è colpa dell'Europa se non si fa l'accordo ITA-Lufthansa, è colpa di Gentiloni se il patto di stabilità non sarà modificato come vogliamo noi o è colpa della Francia o anzi ancora più della Germania. C'è sempre un terzo responsabile, però quello che manca è capire dove questo governo vuole partare il nostro paese perché poi se parliamo di dati economici tra un po' mi sembrerà lampante che al di là del distruggere quello che è stato fatto prima che può essere una scelta giusta per chi vince le elezioni, quelle distruzioni non hanno poi portato a una costruzione di nulla di nuovo per lo sviluppo, per l'economia, per le imprese italiane. Fatto Anelli prego Io penso che forse se, condivido in parte il ragionamento del direttore Manca, credo che alcuni errori siano stati dettati poi dal voler ritoccare quella misura una valanga di volte, cioè ogni volta che passava un decreto in Parlamento ci si aggiungeva un pezzo, si allargava un fronte, si faceva una mini proroga, poi una proroga un po' più grande, si cambiavano le questioni della cessione di credito e questo ha creato incertezza. Io adesso, vabbè, è chiaro, difendo i decreti attuativi del Superbonus, hanno la mia firma, quindi è chiaro che li difendo, ma ne difendo l'origine, la loro originalità e la loro portata, perché in quella fase in realtà, come è uscito la prima versione del Superbonus, aveva una durata temporale ben chiara e definita, aveva degli strumenti attuativi chiari dall'inizio, aveva riferimenti a prezziari, a prezzi massimi, a severazione del tributarista, a severazione del progettista, quindi di soggetti terzi rispetto all'intervento, tanto che appunto, come diceva giustamente il direttore Bignami, le truffe su Superbonus sono una percentuale limitatissima rispetto alle truffe sui bonus edilizi in generale. Quindi io credo che in quella fase, con la necessità di intervenire con qualche misura radicale per rilanciare l'economia italiana in un settore che era in crisi dal 2008 sostanzialmente, quello dell'edilizia, è stata la scelta giusta, dopodiché credo che qualcosa si sia sbagliato dopo, anche nel modo in cui si è usciti dalla misura. Era giusto uscire, sì, era giusto tornare gradualmente ad aliquete ordinarie di sostegno agli investimenti, in termini di efficientamento energetico, però credo che si sia sbagliato il modo in cui si è usciti dal governo Draghi in poi, non sto parlando soltanto delle responsabilità del governo Meloni. Se anche Draghi diciamo che non ha fatto mistero di non avere. Sì, perché anche lì abbiamo toccato più volte alcuni elementi che hanno creato incertezza e chi deve investire se non ha certezza e non lo fa, e se ha un investimento a metà è chiaro che gli porta un grosso problema. Chiudo soltanto dicendo a quello che diceva il sottosegretario Morelli, la misura è nata ad agosto 2020, a febbraio 2021 cambia il governo, da allora, cioè due anni e mezzo fa, abbiamo avuto il ministro dello sviluppo economico della Lega e poi oggi il ministro dell'economia della Lega, che peraltro è la stessa persona, quindi se si voleva gestire meglio c'erano gli strumenti per farlo da parte della Lega.